Eleonora, 18 anni e siamo nella tua scuola, al liceo Colterra. Oggi tu hai un ruolo diverso perché sei dall'altra parte della cattedra, ossia sei tu a insegnare alle compagne. Quanto è difficile? È abbastanza, perché comunque devi farti seguire, poi ci sono dei problemi che magari ancora non riusciamo a risolvere, di conseguenza dobbiamo chiamare Emile che magari ci aiuta, quindi è abbastanza difficile. Però qual è l'aspetto positivo di ricoprire il ruolo di tuta? Certo, cerchiamo di spiegare e anche noi impariamo nello stesso tempo e di conseguenza cerchiamo di migliorare le nostre relazioni con gli altri, poi è anche divertente. Perché hai scelto di partecipare a Codingar? Perché pensavo fosse un progetto abbastanza divertente, infatti si è rivelato tale e penso di continuare. Sei pronta a seguire 160 ragazze all'Hackathon? Lo spero, spero di sì. Ma non sarai da sola? È normale.